Reti di impresa. Il portale presenta i temi di Matching 2.0. Reti di impresa, internazionalizzazione, leader di mercato, distretti. Per ciascuno di questi propone un percorso che mostra i vantaggi e le forme di partecipazione. Nell'home page pubblica, l'utente web, in funzione dei propri bisogni, viene guidato nella conoscenza dei contenuti di ciascun ambito e verso le opportunità proposte. Nella sezione dedicata alle reti, il portale presenta due percorsi. Crea la tua rete, dedicato a chi sta scoprendo e vuol capire che cos'è una rete, scoprire i casi di successo, trovare potenziali partner, valutare la propria idea di rete. Sviluppa la tua rete, dedicato a chi sta già lavorando in rete e vuole approfondire alcune tematiche, verificare e confrontarsi con altre esperienze, approfondire alcuni aspetti tecnico-operativi. Cliccando su Cos'è una rete, viene spiegato che cos'è il contratto di rete ed i vantaggi di un accordo con il quale più imprenditori si impegnano a collaborare per accrescere la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. Per approfondire la conoscenza della normativa relativa ai contratti di rete, si può cliccare sul link a fondo pagina, che indirizza alla sezione del portale di Officina delle Reti, dove è possibile consultare la normativa nazionale che attualmente disciplina il contratto di rete all'interno del nostro ordinamento giuridico. Cliccando su Casi di successo, troverete un'ampia documentazione sul tema reti di impresa. Cliccando su Incontra un esperto, potrete conoscere chi, tra gli iscritti a Matching, si propone come esperto in tematiche di rete e potrete inoltre contattare gli esperti di Officina delle Reti. Cliccando su Cerca nuovi partner, è possibile esplorare il database delle aziende scritte a Matching o quello della piattaforma Officine delle Reti, per individuare possibili partner. Cliccando su Valuta il tuo progetto di rete, si viene invitati a rispondere a otto quesiti sulla propria rete di impresa. Dopo aver valutato i risultati del questionario, un esperto vi aiuterà a capire se il vostro progetto di rete è valido. Cliccando su Partecipa agli incontri, si trova l'elenco completo dei workshop organizzati durante il Matching. È possibile selezionare i workshop relativi alle reti di impresa e l'iscriversi a quelli di proprio interesse. Cliccando su Internazionalizza la tua rete, del percorso Sviluppa la tua rete, un questionario in quattro punti vi aiuterà a valutare il vostro percorso di internazionalizzazione. Con Gestisci la tua rete troverete informazioni utili sulla governance di un contratto di rete e compilando il format allegato, composto da quattro step, potrete chiedere il parere di un esperto su come gestire la vostra rete. La sottosezione Approfondisci le tematiche di organizzazione della rete rimanda al sito di officina delle reti e rappresenta un utile strumento informativo. Le successive quattro sezioni sono identiche al percorso Crea la tua rete.